Eminenza Sono molto contento di essere qui e condividere la gioia di questa comunità diocesana per l'occasione dell'elevazione di Conca di Marano, della chiesa Marti di Cassino ed è un momento, questo mi pare, per prendere coscienza per proprio essere chiesa e l'importanza di testimoniare la propria fede della società molto importante Grazie Eminenza